in questo numero di motori magazine con nissan e force la trazione integrale è 100 per cento elettrica lancia zero anticipa il futuro milano il car sharing di eni diventa elettrico debutta nel vecchio continente la tecnologia e force il nuovo sistema trazione integrale nissan progettato per veicoli elettrici ed elettrificati la sua natura nel suo nome dove i sta per motore 100 per cento elettrico force sa per potenza e 4 per trazione integrale il team di progettazione di force si è concentrato su tre aspetti fondamentali la gestione dei motori elettrici i sistemi di trazione integrale e le tecnologie di controllo del telaio allo scopo di offrire sicurezza e miglior comportamento dinamico in ogni situazione il sistema di trazione integrale e force è stato pensato per essere abbinato a motori nissan 100 per cento elettrici e al propulsore nissan e power in entrambi i casi le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dai motori elettrici nel caso di x trail il motore sull'asse anteriore ha una potenza di 204 cavalli mentre quello sull'asse posteriore ha potenza pari a 136 cavalli la potenza totale del sistema e force è di 213 cavalli l'accelerazione è bruciante bastano 7 secondi per passare da 0 a 100 chilometri orari il sistema regisce i cambi di aderenza regolando la forza motrice con una velocità 10.000 volte superiore rispetto a un sistema ford wd meccanico tradizionale su aria e forza una potenza di 306 cavalli in grado di accelerare la vettura da 0 a 100 chilometri orari in soli 5,7 secondi progressive classic è la filosofia che guida la nuova era di lancia annunciata dal CEO del brand torinese luca napolitano cambia il logo che riprende e reinterpreta quello del 1957 presente sull'aurelia un modello che tornerà in vendita in una nuova versione solo elettrica dal 2026 prima di allora toccherà la y che dal 2024 sarà commercializzata sia in versione ibrida che fu l'electric nel 2028 l'attesissima nuova delta contestualmente alla fine della commercializzazione della y ibrida abbiamo iniziato a gennaio del 2021 lanciamo la nuova y ad inizio del 2024 quindi siamo un po a metà strada oggi celebriamo un momento importante il luogo migliore per farlo la reggia di venaria abbiamo presentato il nostro nuovo logo che è il gioiello che arricchirà le nostre vetture che arriveranno e abbiamo presentato un nuovo linguaggio di design si chiama lancia pura design pura perché la combinazione di due parole molto importanti per noi pure radical puro e radicale che sono le parole che stanno ispirando i nostri designer nel disegnare le auto che arriveranno tra il 2024 e il 2028 abbiamo presentato lancia pura zero che vedete qui alle mie spalle è il manifesto di design per i prossimi 100 anni dove sono molto chiari gli elementi che abbiamo già voluto mettere in evidenza e che troverete già a partire dalla nuova y nel 2024 non solo il nuovo logo anche lo script del logo la reinterpretazione di luce del calice ma anche gli splendidi fari rotondi che ci fanno tornare indietro alla strato se poi tutto combinato con le splendide linee morbide sinuose del laterale che ricordano la flaminia del presidente quindi purezza e radicalità è qui dove vogliamo andare nel futuro siamo tornati a settembre scorso al board a presentare un aggiornamento del nostro piano strategico a dieci anni approvato ed è tutto confermato anzi ancora di più velocizzato la y arriva nel 2024 ad inizio del 2024 sarà ibrida e elettrica nel 2026 l'ammiraglia solo elettrica e poi nel 2028 la delta che è la vettura che tutti stanno aspettando a milano la flotta di enjoy il car sharing di eni diventa anche elettrica lo fa con le city car italo cinesi ex ev yo yo che offrono la possibilità del battery swapping la sostituzione della batteria in alternativa alla tradizionale ricarica dalle colonnine la novità è stata presentata dall'assessore alla mobilità del comune arianna censi e da giuseppe ricci direttore generale energy evolution di eni questo veicolo che viene proposto al pubblico allo stesso costo dell'altra enjoy ibrida nonostante sia elettrica e normalmente l'elettrico car sharing costa di più è il frutto della ricerca proprio di un'efficienza di una riduzione dei costi perché il problema del car sharing elettrico è che se la macchina si scarica bisogna andarla a prendere col carro a prezzi e riportarle in un punto di ricarica l'innovazione del battery swapping permette proprio di evitare questi costi perché uno va con con un furgoncino cambia le batterie e poi le batterie possono essere cambiate nelle stazioni di servizio in questi anni il car sharing ha contribuito a rendere più vivibili le nostre città i mezzi elettrici sono un passo in più in questa direzione penso che sia un bel segnale che eni che enjoy decida di rendere operativa una flotta di auto elettriche peraltro molto carine e anche poco costose per cui anche un modello per chi per i milanesi che invece di prenderla decidono di acquistarla però io trovo molto interessante che continui la possibilità di prendere in sharing le auto come avete visto lo sharing il pooling sono per noi insieme ai mezzi di mobilità sostenibile la cifra di questa città grazie a tutti